Bentornati in un nuovo episodio di Elden Ring. In questo video andremo ad esplorare una zona che ancora ne avevamo esplorato al di sotto dell'interregno. Ci troviamo nella grazia sommità della grande cascata. Noi arriviamo da qui attraverso quella tomba per cui proseguiamo in cerca di sbloccare prima di ogni cosa la mappa. Allora, possiamo usare questo, per cui lo usiamo. Uh, c'è qualcuno qui. Allora, vediamo un attimino qua cosa abbiamo da vedere. Abbiamo qui un albero madre, quindi. Eh, niente, non ho visto. Ahia, mi ha preso pure. Eh dai. Oh, sbagliato, sbagliato. Ahia. Perfetto. Curati di qua e curati anche di qua. Eh... Cavalluccio. E continuiamo con l'esplorazione. Gli animi... Gli animi... Gli sono... Tormica. Eh... C'è anche un cocce. Ahia. Si sente... Eh dai. Cosa rella. Oh. Madonna mia. Dicevo. Sento... Eh, qui c'era un cocce, c'era. Ah... Uno scarabèa. Niente. Mi tocca ricaricare l'aria. Vai, cavalluccio. Eccolo. Allora. Perfetto. Perfetto. Questo è andato. E via pure tu. A posto. Prendi, cavalluccio. Questo c'è qua? Qualcosa? No. Ok. Via. Questi sono i gigli? No. Con pallaria spettrale. Ok. Alla 4. Diciamo che non ci serve più di tanto. Nulla. Ah, lì c'è un oggetto. Ok. Lì non c'è nulla. Eh, sì. Ah, prendi il cavallo. Scendiamo. Qua. Non posso arrivare dall'altro lato. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo salire su questo tronco. A posto. Saliti. Vai. Da qui. Uno e due. A posto. Vediamo che oggettino è. Una pietra. No. Normale però. Peccato. Oh. Là non posso salire. Eh. Vai. Abbiamo un po'. Abbiamo un po'. Abbiamo un paio di diramazioni con i tronchi. C'è quello. Ah, aspetta un attimo. Allora, andiamo indietro. Abbiamo un po'. Prima da questo tronco cosa abbiamo. Non ci abbiamo nulla. Abbiamo la possibilità di saltare da qui a questo tronco e arrivare dall'altro lato. Per ora, questo non ci interessa. Poi. L'altra possibilità è da qui. A questo tronco qui. Io posso. Allora, andiamo un po'. Torno indietro. Poi da questo altro lato. Non credo di poter fare molto, onestamente. E infatti. Niente. Torno ancora indietro. Ultimo tentativo. Saltare su questo tronco qui. Vediamo che questa grotta. E... Allora, lanterna. Fatta formica. Questa ce la siamo giocata. Poi. Ok. Uh, non te l'ho visto. Mori. Ah. Posta. Scusati. No, ho sbagliato. Spendi. Apri la luce. E cura. Non questo, ma questo. Non ne ho azzeccata o non ne ho azzeccata? Allora, vediamo un po'. Queste non si rompono. Ah, ci sono formiche anche attaccate al soffitto. Perfetto. Eh, qui, invece. Quando è qua, si arriva ad un altro ingresso. Quindi, mettiamoci questo segnalino qua. Eh, no. Più che questo, questo. Torniamo indietro. Torniamo indietro e usciamo da questa grotta. Alla fine, non c'era assolutamente nulla di bello. Ah, prendi il cavallo. Ok. Poi. Eh, togliamo indietro il fine. Eh, però... Adesso come ci arrivo là? Ah, qui? Sì. Mamma mia. Abbiamo vista brutta. Cioè, abbiamo vista brutta, però... Non siamo morti, per cui... Alla grande. Oh. Qui abbiamo... Formiche volatili. Formiche volanti. Mori. E lì c'è un ingresso. Là, secondo me, non ci arrivo. Mi sa che, invece... Dammi... Dammi questo, va. Mi sa che, là, io non ci posso arrivare da qua. Per cui, tanto vale fare la strada inversa della grotta. Ci eravamo già entrati, quindi... Facciamo così. Entriamo. Alla prossima. Aia Aia Di tutti Sì Però Curati di questo Un attimo Statistica E proseguiamo Ok Su Per il prossimo Eccola Morto Allora abbiamo qui un oggetto Nulla di buono E mori pure tu Oh sul soffitto non ne vedo più Abbiamo solo queste due qui A guardia dell'ingresso O dell'uscita A posto Allora Tutta questa strada Per questo oggetto leggendario Che cos'è? Tele Ancestrali Una magia addirittura Ok Non me l'aspettavo Una magia Vai Vai Di cavallo A posto Eh Oddio Non c'era nulla Vai Procediamo per di qua Aspetta qua c'è qualche Oggetto Sì Uno è qui E Scendi piano 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 Ok Poi Non c'è niente Andiamo dritti Perché proprio Lì in fondo C'è un altro oggetto Da raccogliere E possiamo evocare La nostra copia Brutto segno Un indietro Ah non c'è niente Messo Qua non c'è nulla Un tronco Non ci interessa Da qui Eh In fondo niente Là in fondo niente Quindi Proseguiamo Oddio mio Quante formiche E lì c'è un oggetto Invece Ci arriviamo Ehm Allora facciamo così Andiamo prima Verso l'oggetto E poi Affrontiamo Tutte quelle formiche Qui cosa c'è Nulla Ok Torno indietro Ora ti Eh curti Evochiamo la lacrima Riflessa E andiamo All'attacco Aia Brava Brava La lacrima Eh curiamoci Ah abbiamo finito il mana Interessante Molto interessante Questo Eh dai Vabbè Brava Ok Eh Io Cavalluccio Vedi che qua ci sono altre Amico mio Non è andata Evitata Non so come Lascia stare la lacrima tu Per difesa Amico mio Eh Qua non c'è niente Vai Prendi il cavallo E proseguiamo Eh Aspetta Perché questo Non mi serve più Da dove sei arrivata Da dove sei arrivata? Boh Allora Abbiamo delle mura Vediamo qui Cosa c'è Ah Qua ci sono altre Formica Attacchi tu Per favore Così abito io Prendi il cavallo Prendi il cavallo Oh Ah Ah si è andata Peccato Vabbè Sei stata di D'aiuto Oh Noi arriviamo da qua Quindi Quelli qua L'abbiamo fatto tutto Quello che Dobbiamo fare Una grazia? Sì Non ci questa grazia E abbiamo una Leggidita Vabbè Eh Non mi leggi le dita? Vabbè Arrivederci Arrivederci Allora E qui Cosa c'è? Nulla E vorrei la mappa Vorrei però Per ora Nessuna mappa Vai Lo scegliamo per di qua Vediamo qua Cosa c'è? Ah Va bene Non mi interessa Abbiamo una grotta Scosta Per caso No Eh Oddio Ma porca Che palle Quanto Degli orsi Allora Qui c'è un qualcosa Che si raggiunge Da sopra Quindi Niente Dobbiamo Trovare La zona Superiore Che potenzialmente Potrebbe essere Da questo tronco No In realtà No In realtà Aia Eh Questo Pallosio Con calma Questa Contro Con calma Quanto 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 No Opposto Ci sono Altri qua No Abbiamo un oggetto È una pietra Uno Uno di questi L'abbiamo già Visti All'interno Delle Otto Come si chiama Sotto 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 La capitale Sono Disgraziati Oh Qui abbiamo Un altro Oggetto Vai Vieni qua Morto Eh Qui c'è un Cavaliera Cascato Andiamo No Il cavaliere Se ne va Quindi Ma Tu vai Dove vuoi E io Continuo Qui l'esplorazione Ah Tu sei morto Sì Tu sei morto Senza la mappa Non riesco Ad orientarmi Allestamente Questo Uh Mappa Ok Arrivo da qui Così Questa è la cascata Abbiamo visitato Vai per di qua Ok Dove c'erano tutti Quei mastriciattoli Perfetto Là ci sono stato Qua dentro Devo infilarmi In questa struttura Qui No 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 Vediamo se c'è un ingresso Posteriore Qui niente Da qui C'è un nemico? Sì Ma io Non t'ho visto Ma tu Super Cercato Peggio di me Niente E no Quindi devo per forza Andare frontalmente Praticamente Va bene So come posso Sopravvivere Però Carichiamo il vigore Vai A posto Più facile Di quanto Pensasse Per che cosa? Per una Genia di guerra Va bene Ci sta Onesto C'è nient'altro Quindi Possiamo Proseguire Quindi Ok Vediamo un po' E andiamo Morto Via Dov'è? Aia Altri? No Lì c'è un oggetto Quindi questo Ah Lì c'è un altro Di quelli che è Tutta fuoco Allora Io qui Sento Così Il rumore Eccolo qua Vieni qua Vieni qua Devo andare meglio Andiamo per di qui Lì Abbiamo tre Cavalieri Va benissimo Qui invece Abbiamo Il cingolo Cavaliere A cavallo Avviamoci Vai di qua Vai di qua Vai di qua A posto Allora Easy Poi abbiamo Qui non erano tre Cavaliere Scusami Io me ne riportavo Fostero tre E ne ho visti tre Ne ho visti Scusami Eccoli Probabilmente mi avranno visto E stavano avendo Incontro Perfetto Dai E dai Ok Aspetta un attimo Accogli Questo Via 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 Perfetto Così Secchiamo anche questo E sotto Riusciamo a muoverci Con tranquillità L'altro È lì Uh Ma soleo Interessante E mi pare di aver intervisto Una grazia Qua dietro Vediamo Sì Ecco Allora Facciamo così Scendi qua Ok Ok A posto la sorella guardi Mari Guardate Allora Allora qui c'è un altro nemico Andiamo Aia E' stato il tempo Bastardo Porca miseria Allora A questo punto direi di andare a prendere direttamente l'altra grazia Chewle out Chewle out Chewle out Aia Vai Allora dove era la grazia da queste parti credo Eccola qui A un altro punto riposiamoci E' nuovo livello Niente No sbagliato Riposati Vai Allora Esploriamo tutta questa zona qui E poi andiamo Verso quest'altra E' esplorare tutta questa zona qui C'era rimasto solo questo E' esplorare alla fine Lì c'è un masoleo E va bene Formiche La si salta per salire là sopra Lì ci sono stato Allora Andiamo per di qua Andiamo un po' Ecco sotto Ah Un altro di queste Qui non c'è nulla Dobbiamo risalire sopra mi sa E di qua E saliamo Questo è andato Poi Vediamo qui cosa c'è Nulla Perfetto Andiamo per di qua E lì l'abbiamo già preso Il drop Perfetto Lo sopra Un altro qui E che palle Dove era l'altro L'altro Era giù L'altro è giù E lo raggiungiamo Vediamo Prima come Ah lì c'è un'altra grazia E scusami Se faccio così Ok da qui Si prosegue No Sbagliato Vabbè E Questa è da visitare Non posso fare Il cavalluccio Va bene Proseguiamo A piedi Vai Vai Credo Là ci sono stato Là ci sono stato Niente oggetti qui Ah sopra Bisogna andare Perché sopra C'era Poi Deve essere Più che altro Un buco Nel terreno Per portarmi A dove c'era Il coso L'orso Dietro la cascata Allora 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 Dobbiamo andare Andare per di qua Allora Vediamo qui cosa abbiamo Ah Queste parte Eccolo qua Quindi Qua sotto Dobbiamo cadere Sicuramente E adesso Ci andiamo Qua non c'è nulla Abbiamo qualche Formica Qui Perfetto Perfetto Allora 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 E non c'è Nient'altro Va bene Questi tronchi Non li possiamo Usare In nessun Modo Va bene Allora Eccolo qui L'orso E l'oggettino Nulla di che Allora Quindi Fatto questo Quello che dobbiamo fare E' esplorare Questa Grazia qui Che ci porta In questa direzione E dobbiamo Esplorare Questa grazia qui Per andare Verso tutta Questa ulteriore zona Che dobbiamo Ancora visitare E questo qua Lo facciamo In un secondo video Per ora Il video Lo otteniamo qui Mi sposto direttamente In questa grazia E se è qui Vediamo un attimo Se possiamo Aumentare il livello E possiamo farlo Un altro punto In tempo E fatto questo Ci vediamo Nel prossimo episodio